Ci sono molti aspetti interessanti che emergono da questo rapporto, ma uno in particolare, c'è un tema, un grande tema di competenza e di mancanza di figure professionali. Le aziende sono estremamente interessate a temi di intelligenza artificiale, ma mancano molti data scientist, mancano esperti di intelligenza artificiale e chiaramente questo come docente universitario e come formatrice mi interessa molto e in particolare c'è anche bisogno di figure che sappiano parlare sia il linguaggio della tecnologia, ma anche il linguaggio del business e che quindi possano integrarsi agevolmente all'interno di un'azienda. Grazie